Seconda tappa di un percorso che abbiamo voluto proporre alla città, composta di due incontri, per affrontare le tematiche della problematica sociale. Problematica sociale che insieme a quella ambientale caratterizza l'impegno principale di tutti i comuni, del nostro e come di tutti gli altri comuni. Cosa abbiamo voluto fare con questi due incontri? In un primo incontro abbiamo voluto presentare l'analisi della situazione, abbiamo affrontato un po' le tematiche, le problematiche presenti ed esistenti. In questo secondo incontro che terremo il 14 novembre, sabato, qui alla sede del Consiglio Comunale, della Salla del Consiglio Comunale, cercheremo di guardare un po' cos'è l'aspetto del futuro della gestione di questi problemi. Cioè, dei problemi della persona. Noi quando parliamo di welfare, di servizi sociali, parliamo dei bisogni che una persona ha. E in questo particolare momento, un momento molto difficile, diventa centrale avere strategie capaci di realmente affrontare i problemi e di risolverli. Questa mi sembra la cosa importante. Se ne è parlato un po' molto questi giorni e si è affrontato un po' sulla questione dell'ambito, anche sulla mozione, le problematiche poste dal Movimento 5 Stelle. È necessario invece anche creare un sistema che sappia prevenire, organizzare e affrontare le problematiche in maniera sistematica. Se una città è a misura di bambino, è una città a misura di tutti. Anche perché realmente la questione della persona e l'attenzione alla persona e agli ultimi garantisce una migliore vita della nostra città.